. Brad Pitt shock, penso che l'uomo giusto per Angelina non esista. Nelle scorse settimane si pensava che Brad Pitt e Angelina Jolie potessero trovare un compromesso dopo l'anno di distanza, ma non è andata così. Malgrado il passo in avanti fatto dall'attrice nei mesi scorsi, in cui dava una seconda possibilità all'ex marito, qualora avesse riconosciuto i suoi errori, ora Brad Pitt ha detto la sua. Secondo lui infatti, Angelina Jolie non troverà mai un altro marito, a causa del suo carattere impegnativo. . Un amore senza più speranze. . I fan di Brangelina ci avevano sperato fino all'ultimo, complice anche il passo in avanti fatto dalla Jolie che sarebbe stata pronta a perdonare l'ex marito per i suoi errori. . Questo però non è avvenuto e la coppia ha ripreso in mano le carti del divorzio, a quanto pare Brad Pitt si è dimostrato più disilluso che mai sulla sua ex-relazione. . L'attore infatti ha rilasciato una dichiarazione shock, in cui ha rivelato che secondo lui Angelina Jolie non troverà mai un quarto marito, perché l'uomo giusto per lei non esiste. . Dopo tre matrimoni falliti l'attore crede che il carattere della ex-moglie sia troppo complicato e a quanto pare richieda troppi sacrifici. . Lui stesso sarebbe consapevole che le relazioni più durature richiedano compromessi, ma chi vuole sposare Angelina dovrebbe essere pronto ad abbandonare molto della propria personalità, per rispondere alle sue aspettative. . Malgrado questa rivelazione che ha lasciato tutti fan a bocca aperta, Brad ha augurato tutto il meglio alla ex-moglie, pur credendo che l'uomo perfetto per lei non esista. . . Il fatto che Angelina Jolie avesse aspettative alte dal proprio partner non è una novità e l'ex marito ne era ben consapevole, lui stesso ha dichiarato di aver rinunciato a tutto quello che aveva, per vedere poi fallire il suo matrimonio. . Gli ex di Angelina Jolie e Brad Pitt. . . Entrambi sono sempre stati due rubacuori, fino a quando non si sono conosciuti ed è iniziata una delle storie d'amore più seguite di Hollywood. . . Prima di tutto questo e dei loro sei figli, Angelina Jolie aveva alle spalle già due matrimoni finiti, il primo con Johnny Lee Miller dal 1996 al 1999, mentre il secondo con Billy Bob Thornton dal 2000 al 2003. . . . . . . . . Brad Pitt invece aveva un solo matrimonio alle spalle, quello con Jennifer Aniston e alcune relazioni con Juliette Levis e Gwyneth Paltrow, a quanto pare il premio di rubacuori tra i due lo vince sicuramente la splendida Angelina. . 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